E' la puntata numero 33 del vostro rotocalco salute, fitta di servizi e quindi c'è soltanto il tempo di dirvi ben ritrovati e di mandare in onda il sommario. I bambini accolti nel reparto d'eccellenza dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio. Adozioni. Approvato dalla Regione Veneto un protocollo per accelerare i tempi delle adozioni internazionali. Benessere. I massaggi ayurvedici a beneficio di corpo e mente.